sound one-on-one in underground e vogliono rubarci il sound one-on-one in underground e siamo pronti? signor caro eh? si, io si anche un bell'ettino underground bene si signoria della rigida come si? si siamo in diretto ah è così eh meno male ci metti d'accordo prima e cosa vuoi? le basi niente 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 tutto il pubblico del mondo è collegato in quattro vabbè siamo già in tre uno due tre vabbè ci siamo è già un passo in avanti no? stanno arrivando stanno arrivando numerosi che accorrete accorrete c'è l'unboxing live di no c'è scritto ledum ma in realtà è led6 chi c'è? salutiamo Luke Harlins ciao ragazzi ciao a tutti Andy 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 ciao Andy Gianluca ciao Gianluca ciao ragazzi siamo registrato per il tubo dove metteremo tutto on tube presto e su instagram live salutiamo tutti chi ha qualche domanda inerente alla morsig? Yuki parla e Shuu saluta saluta ciao ragazzi saluta e niente se qualcuno qualche domanda inerente domandi la signorina della rigida di Instagram interverrà e esporrà la domanda se la retiene opportuna se non la retiene opportuna non non aserà la mano e non farà la domanda ci siamo pronti possiamo iniziare? ah si Lorenzo Lorenzo si lo so che devo risponderti alla mail c'è la casella intrasata poi vi rispondo poi rispondiamo a tutti non do il duor e bieppi ragazzi siamo qua ci vedete cioè io sono qui i camera sono lì e siamo tutti qua no poi rispondo a tutti rispondiamo non scappiamo non scappiamo un po' di pazienza abbiamo un po' da siamo bastanti impegnati grazie a tutti per seguirci per far tanti ordini per tanti like tanti commenti grazie 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 e prego adesso facciamo un momento di divertimento tutti insieme che c'è mi stanno mandando i correttini colorati eh 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 un momento di allegria di unboxing perché c'è la ristampa attesissima di due lenti leggendari eroi magico led 6 e dunque regie siamo pronti? si si pronti con ci si sbusta? ci stiamo confrontando noi pronti tutti insieme check alright e allora Yu-Gi-Oh due lenti leggendari eroi magico ristampa Unlimited prima edizione uscita a gennaio che ci sono qua ci si sbusta e allora il signor camera non ha studiato non ha studiato perché non ha ripassato ieri e allora eccoci qua a sbustare eccolo qua guardate che bello che bello è che bello è quando c'è tanta gente quando lo stadio è pieno e la musica la musica riempie il cielo bene 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 due lenti leggendari eroi magico ristampa unlimited prima edizione uscita a gennaio che ci sono saluti dalla germania dalla germania ha scritto in italiano ha scritto in italiano alles gut on together now alles gut è giusto poi sono tre parenti adesso come trai e puliziai bene 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 c'è chi si sbusta allora eroi magico saluti a tutto il mondo che ci segue grazie ragazzi 36 bustine alla caccia dei maghi quelli neri e allora attenzione caccio si sbusta partiamo con un non la dico perché è una roba indicibile questa carta che nome c'ha go 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 quanto go 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 godododant quello quante azioni è eroe preferito partiamo con una sua e signor camera Bella Partiamo bene Siamo subito bruciati La prima ultra Pazienza Abbiamo altre 4 Attenzione Navigliazione magica Bene Questa ci sta Forse è meglio Questa No però No siamo lì Che c'è Dicono vai con questa anima dei maghi Speriamo Anima dei maghi Spero che non sia arrivata a riportare Attenzione Onomato Rinco Un umo Onomato ritiro Oh là Ebbene ci vuole tanto Attenzione Mago caca 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 stop a posto Attenzione è un mago dell'illusione nera non male però siamo una super e una ultra la super è migliore della... oks i tiunk sarcophago d'oro I deck drago leggendario e i mazzi, i strutturdeck Dovevo fare la musichetta per parte della pubblicità Torniamo a noi, attenzione Signale di ferraglia, carta rara, bustina Tranchi, verifanchi, ormai le conosciamo Queste bustine le abbiamo già viste Nella prima edizione Questa è una limite, la ristampa Attesissima, perché stasera è una figata Ma attenzione, soldato liquido Eroe elementale Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap attenzione mago dell'illusione nera bene 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 il liquido dovrebbe essere un gruppo tedesco se non ricordo male il liquido si me ne ricordo attenzione che bella c'è anche il numero F0 utopico ma soprattutto servitore dell'anima terza ultra pazzesco magari un box fallato abbiamo un sacco di ultra chissà chissà cosa ci prospetta questo fantastico box un altro mago dell'illusione nera sono solo questi signor camera hanno fatto solo una carta rara in questo box c'è questo attenzione un saluto all'amico segreti della magia nera così andiamo abbastanza spediti perché noi cerchiamo quelle carte che brillano come questa con prossima generazione yes puoi metterla anche sotto il mango che cagasse si vabbè ormai dai non ci sta no signor camera non si ormai ormai è una roba incontenibile attenzione salta fuori artista amico salta fuori sta carta e eh 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 l'ha scritto così circolo magico nero ragazza maga nera numero F0 guardiamo anche le comuni no sono molto belle le comuni di questa serie segnale di ferraglia forse è meglio in questa bustina le comuni rispetto alla rara eh attenzione dragon stregone occhi diversi che c'è hanno ragione cosa c'è hanno fatto notare che dici sempre attenzione eh certo attenzione eh 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 ma lo dirò grande lo dirò sennò a 34 35 volte al video al minuto al minuto elevato al quadrato in fila per sei con resto di due navigazione magica un'altra fantastica navigazione magica abbiamo anche sintonizzare fusione miracolo stregone cronografo e delfino acqua neospaziale molto carino il nostro delfino per ora abbiamo trovato due super e tre ultra uh madonna quarta ultra che boh vuol dire che abbiamo trovato basta signor camera dovrebbe essere il 5 però magari sto giro schiappiamo secondo me schiappiamo di bella però è preferito chi è che rompe le palle attenzione torniamo in diretta in diretta si si siamo ci siamo ok c'era qualcuno che eravamo un attimo in pausa è arrivata una chiamata facciamo facendola live mi sono dimenticato di metterlo a aeroplano attenzione altra ultra altra ultra signori che bomba sincroni seguimento facciamo la collezione completa delle ultra signor camera ma ci sono già 5 bomba insomma aspetta sei arrivato a metà box siamo 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 alla seconda colonna aspetta fermati allora stiamo sbussando duellanti leggendari eroe magiche esatto esatto per chi si è collegato solo in questo momento led 6 ristampa fai il giro saluto salutiamo tutti chi si è connesso adesso ciao ragazzi man mano che vi connettete noi salutiamo non c'è problema la signorina dell'argiadista che era mai qua per quello per interrompere in caso di necessità ora terza super satelite sincrono viene descritto come una rompiscatola però vabbè ma no in caso di necessità ma signor camera questa ragazza ma come possiamo quando dice la verità attenzione un altro manco dell'illusione nera basta mille li abbiamo trovati allora dovresti salutare il nostro amico Giuseppe ciao Giuseppe che l'ha scritto prima dove eri? spinto futuro attenzione poi chi salutiamo salutiamo qualcun altro? si sempre il ragazzo della Germania che dice saluti Raffaele saluti ciao Raffaele adesso guarda Raffaele c'è un bel go go guanto do 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 danno mortimer credo che si legga così il tuo nickname vuole essere ciao Mortimer ma i poche mania 75 grande mi scrive sempre ok Mortimer in realtà dice che si chiama Manuel ma ci sta magari un nickname ognuno lo sceglie come preferisce no Eric attenzione ti saluto Giuseppe oh no marito quello no continuiamo continuiamo abbiamo trovato ora 5 ultra vorrei trovarne anche una sesta sarebbe molto molto attenzione maga illusione apprendista bella 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 cista cista anche se noi cerchiamo una cartina che cercano i tanti una carta top che è ultra rara però un drago stregone occhi diversi potevi anche non sfruttare vabbè le rare si trovano non è che non si devono trovare cioè del resto è così è così attenzione attenzione c'è 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 prossima generazione e niente abbiamo 5 super e 5 ultra però ancora un sacco di busti da aprire che c'è signor yen yen c'è anche yen grande yen venici a trovare se sei ancora vivo venici a trovare dai su via yen direi che è ancora vivo eh sì meno male grande yen salutato come cosa ha detto signor camera no 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 posto kevin ti saluta ciao kevin salta fuori salta fuori pachitos loco secondo me attenzione attenzione alchimista del magistero è il tuo più guerriero e le altre carte con un segnale di ferraglia vediamo ancora ragazzi 1 2 3 6 bustine io voglio la penultima 6 bustine secondo me c'è ancora può esserci una super può esserci una ultra io voglio la penultima però secondo me c'è una ultra io mi gioco la ultra signor camera non c'è niente non c'è niente perfetto signorina della leggerista nella penultima no c'è una super una ultra 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 niente niente a posto attenzione spinta futura poi meno 5 diciamo countdown attenzione andiamo gagagaga rata totà poi ormai sta salendo la tensione attenzione ed è ultra sesta ultra bomba box guerriero satellite è un'altra la ultra e vabbè però abbiamo tolto la ultra però ci sta no 6 ultra ora sbusta una ultra attenzione salta fuori artista amico attenzione quella è la mia questa è certo ma signorina non ha capito di cosa stava a parlare la prossima volta dragon dragon strugone occhi diverse che bomba che carta signori la fila fuori per comprarla fuori da cosa non si sa allora super bombazza artista amico mago celestiale il signor ha portato bene non c'è niente super e ultra ovviamente e bomba di box abbiamo trovato una ultra in più rispetto alla media ahimè non abbiamo trovato le anime dei maghi le anime delle morta e niente che c'è signorina che la vedo sorridente bella bella zilla si hanno fatto qualche domanda si vediamo sentiamo se lasci la live dopo si si la live la mettiamo su instagram su youtube quindi ve la potete riguardare tutte le volte che volete potete condividerla con tutto il mondo il ragazzo della germania dice ciao mi chiamo luca e sono di ghesen ciao luca da ghesen dalla germania tetesca se magari luca magari è un italiano che vive in quella della germania quanto costa il box e dove si può tutti i prezzi lpp con lpc punto it questo mese giugno ci c'è anche il 5% di sconto su tutti i prodotti per cui sul box girato ma anche su per dire sui deck dragon leggendari sulle team su gli structure quindi approfittane che è fino al 30 di giugno e poi ritornerà il 5% ma tra qualche mese e allora che c'è mico finito un ragazzo che si chiama eric dice non lo conosco ma eric mi sta simpatico grande non poteva essere eric eric c'è ancora il nokia prezzo sicuramente il nome che c'è che c'è poi siete mitici grazie grazie ragazzi giuseppe dice grazie mille boss di esistere grazie giuseppe grazie a voi grazie a voi di esistere voi insieme a noi qua sembra sbustare divertirci e adesso torniamo al nuovo lavoro vediamo di fare gli scemi e niente grazie a tutti di seguirci continueranno gli unboxing e gli sbusting su instagram sul tubo li stiamo registrando poi guni arriva presto con noi torna presto con noi e ci monta i video e li carichiamo tutti bene 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 la signoria non è la cosa non l'ha studiato non l'ha studiato niente è rimanata a settembre e bene bene e allora da boss dalla signorina della regia di instagram e dal signor cameraman è tutto ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti